Si conclude in anticipo la vendemmia 2024 per il primitivo di Manduria. La qualità delle uve raccolte si conferma eccellente, dicono dal Consorzio di Tutela, nonostante un calo della produzione che si aggira intorno al 40% rispetto all'anno precedente. I grappoli sono più piccoli, come conseguenza del caldo prolungato e della siccità, ma il loro stato di salute è ottimo e la maturazione anticipata ha permesso di ottenere uve con una gradazione alcolica più elevata rispetto agli anni precedenti. Come ogni anno, non mancano speculatori senza scrupoli che praticano politiche economiche sleali ai danni dei nostri viticoltori, commenta Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, che si trovano spesso costretti a svendere il proprio prodotto. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato tutte le misure previste dalla normativa vigente per tutelare il bene comune. Tuttavia, prosegue Pastorelli, è importante ricordare che non è prerogativa del Consorzio intervenire nelle trattative private. Il calo naturale della pressione produttiva sulla DOC e la conseguente riduzione delle rese IGP porteranno, siamo certi, a risultati positivi sul fronte delle giacenze, che attanagliano molte delle nostre cantine. Continuiamo a lavorare insieme, concludono dal Consorzio, per mantenere alto il nome del Primitivo di Manduria.